Proseguono le attività al Castellabate Film Festival, all'insegna di risate e di tanto divertimento dei piccoli bambini, i quali, dopo i tre corsi mattutini, si sono cimentati nel pomeriggio in nuove avventure, corso di magia e country dance dalle 15 alle 16 e 30 e animazione 35 megahertz dalle 16 e 30 alle 18. Molteplici trucchi di magia, tra cui quello di far scomparire e riapparire un anello, si sono alternati alla country dance, un ballo classificato nelle danze sociali tipico delle isole britanniche, introdotto in Francia, poi in Germania e in Italia nel corso del XVII secolo, in cui le coppie ballano insieme in alcune figure o set. Le coppie, formate dai giovani fanciulli, erano composte da due o tre persone, ma anche da 5 o 6. L'ultima attività pomeridiana, che ha chiuso il ciclo dei sei corsi della giornata, è stata proprio l'animazione 35 megahertz, in cui i bambini si sono cimentati in diversi giochi di animazione molto divertenti, con della musica in sottofondo. Tra questi, un percorso d'ostacoli che, una volta cominciato, doveva essere concluso cercando di far entrare la palla dritta nel canestro. Il prossimo appuntamento si terrà nella giornata di oggi, 20 luglio, sempre dalle 9 alle 18.